Allora Radio Muscretto Rinfresca la tua estate Riscalla il tuo evento Restate con noi Radio Muscretto Ebbene bene bene Ciao a tutti Finalmente ho risolto Questa cosa della intro Che cliccando il set Non funziona Adesso quando clicco il set appunto Parte Iniziamo con questa altra intro Clic 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 Ok Adesso andiamo sulla scena Durante live L'ho fatto tipo L'anno scorso ancora no E io ho scritto Durante live Dopo Allora iniziamo con le canzoni Ma dopo la canzone Vi parlo Perché non c'era questo show Da due mesi Diciamo Non me lo ricordo anch'io Allora Iniziamo con le canzoni Flashdance Buono ascolto Mi sento Perfetto Perfetto Iniziamo con le canzoni Oh adesso che mi è venuto in mente I cerchietti li ho riparati Chi lo vede Che bello I cerchi riparati Perché prima Erano rotti Rotti Diciamo così Adesso che ci vedo Il giallo A sinistra Non si vede neanche Quasi Ok Per questa canzone Basta Cerchi Direi Io Non si vede neanche Perfetto Chi lo vede neanche I can't have it all Now I'm dancing for my life What a feeling What a feeling I'm dancing for my life I'm dancing for my life You can dance right through your life What a feeling What a feeling Mi è paruto Mi è pareva una canzone saltata un po' C'è un problema Che io non uso i cd per fare le canzoni Vabbè, le prendo tutte da youtube Perché è tanto Ok, intro Radio Muscretto, in fresca tua estate Riscaldate il tuo evento Restate con noi, Radio Muscretto Allora, adesso vi dico Perché non c'era questo episodio Che adesso Vi faccio vedere Dov'è la telecamera? No, ma, no Sto facendo vedere la telecamera stessa Adesso che mi accorgo Qua Photoshop è aperto E vediamo la scritta il ritorno Quella che Meglio se chiudo un momento Che non so perché sto facendo questa stupida No, stai zitto Zitto Ok Se vedete qui dove c'è scritto il ritorno Lo so Copre questa parte di scrittura anche di troppo Per la Come si dice A destra A destra sotto E ora parliamo E ritorno in gigante Perché non ho voglia di metterla in piccolo E l'ho messo così solo per questa volta Allora, non c'era Perché c'erano troppi problemi Troppe cose da fare Non avevo neanche il tempo di registrarlo Non solo di andare in live Ma di registrarlo Poi prima avevo un internet Adesso c'erano meglio E quindi adesso Appunto questo episodio Che sto registrando Alle Mercoledì 4 novembre Siamo a novembre Buon novembre a tutti Alle 14.47 In questo momento Lo caricherà in due minuti Adesso Andiamo avanti con le canzoni Sentirete Wanderlust Alpha Buon ascolto Dimmi tu solo Cosa vuoi fare Io che ho riempito pure Di lacrime il mare Sei inoversate tante Di lacrime a mare È tutto un prendere o lasciare Che scegliamo Tu ti sei lasciata prendere la mano Ma non ci voglio pensare Devo far stare Ma la mezza non è poi così lontane Dopo Adò dovrei Dopo Vi leggo una cosa Sulle banane Da Scottex Magazine Dopo la canzone però Ho la ragione Perché tu c'è la ragione Di quel mio senso di carri Perché non mi lascia più La vita è una stazione C'è chi viene C'è chi va Una fra tutte le persone Vorrei che tu stessi qua È tutta immaginazione Vivo dentro Wanderlust Sindrome del viaggiatore Ho il gene di Wanderlust Però tu lo sai che c'è Che ovunque vada io cercherò te Da nord a sud e da ovvesta Non ci vedremo mai Vai via in mezzo al via vai Eri la mia regina che non amarrè Ma ovunque vada io cercherò te Dove fa buio e dove c'è il sole Forse ti volterai Mentre tu te ne avvindrai Come un pezzo di me Se fa tempo mi dicevano Questo quindi sono ma non sono come pensa Non aiuta il tempo Segui chi giura niente Non c'è giuramento Segui chi giura mente Segui chi giura mente Segui te nella missia Che stinge e che pizia Sul filo del rasoio Ci faccio l'equilibrista Mi fa male le gambe Però non posso fermarmi Perché ho detto Che un sogno da solo Non si realizza La vita è una stazione C'è chi viene C'è chi va Ma fra tutte le persone Vorrei che tu stessi qua È tutta immaginazione Vivo dentro Wonderland Sindrome del viaggiatore Ho il gene di Wonderland Però tu lo sai che c'è Che ovunque vada io cerchi Oh, ho dimitrato i cerchietti Per questa canzone Cerchi olimpici Non ci vedremo mai Vai via me Solvia vai Eri la mia regina Che non ha male Ma avunque vada Io cercherò te Dove fa bollietto Mi pare che la canzetta Poco finisce Quando finisce Metto tutti i cerchi Quindi mi preparo Tira intro Cominciando Di tasti Complicata Radio muscletto Radio muscletto Infresca la tua estate Riscale il tuo evento Restate con noi Radio muscletto Radio muscletto Bene Adesso vai via Intro Allora adesso vi Condivido lo schermo Dell'iPhone Ok lasciamo perdere Whatsapp E andiamo sulla telecamera Ok Intanto io vedo la mia bella foto profilo qui E poi con la scritta MacBook Bro Con installato sopra Windows 10 Che lo so È È un MacBook Taroccato Diciamo Quindi lasciamo perdere Che è meglio Perché se no Guai Guai Allora togliamo la matita Che se no qua È l'orologio Che segna l'E450 Quanto ho di cavi Non so dove mettere questo cavo Per collegare il telefono al computer Vabbè Allora The Scott X Magazine 21 Prima che stessimo in lockdown È uscito A gennaio Vabbè È la febbra Non mi ricordo neanch'io Pagina 30 Storia di una banana Aspettate che Metto Ok Questa è la storia di una banana Guardate la banana Ma Non è una banana Come tutte le altre È una banana Speciale Dove sono col telefono Non vedo niente Scherzetto È una banana come tutte le altre Lasciamo perdere il cavo YUMU Una banana Ora me la mangio In un sol boccone Una banana stirata Ah Questa storia ci insegna A masticare bene Fine Ultra grand angolo Senza filo Che è meglio Bene Grazie Ciao Mettiamo Scott X Magazine Dietro Andiamo a perdere il telefono Uh Ancora il vecchio logo Di Di L'admoscletto Che avevo fatto Nel 2018 Con una roba qui strana Sembra una stella Poi che ne so Vabbè Eh Sì Cosa volevo dire Adesso riprendo Pensavo che è partita la intro Un'altra volta Allora Scott X Magazine 21 Pagina 30 Abbiamo fatto Ora Non mi ha mandato per forza Avanti con le canzoni Secondo il programma Che non so chi l'ha fatto L'ha fatto Quella Quella persona là Che vedete là in fondo E non so chi sia Ma vabbè Chissà chi è Comunque Andiamo avanti con le canzoni E sentite Dov'è quando Di Benji e Fede Buono ascolto Fino alla mattina La luna Che Mi accompagna Fino a te A te A te A te A te In montagna Al mare In una laguna Se ti trovo Non è fortuna Ma Solo l'inizio Dell'estate Le nostre litigate Ce le paghiamo a rate Dai Adesso Serve un posto Un po' meno caldo E una casa Per noi Soltanto E Tu sai dove Dimmi dove Quando Dimmi dove Quando Dimmi dove Quando Dimmi dove Quando Dasta sera Non arrivo In ritardo E non Più nessuna Scusa Stupida Non contare Anche Il tráfico Che c'è Dimmi Dove Quando Da stasera Non arrivo In ritardo Mentre Io rispondo I messaggi Whatsapp Io Canto Dimmi dove Beh Quando Ok basta Che se no mi distrago Non riesco a rispondere E leggere i messaggi Di Whatsapp No No Whatsapp Non con la Ma con la O E se il tuo treno Passa una volta Dimmi a che ora è Arrivo Prima Che Cada L'ultimo Fulmine E E Cercco un po' Di tempo Cellulare Spento Per ballare Senza Reggaeton Dimmi dove Quando Dimmi dove Quando Che sto Accelerando L'ultimo Sorpasso E giuro Sono Date Date Intanto Tienimi Il mio posto Dimmi dove Quando Dimmi dove E quando Ma da stasera Non arrivo In ritardo Non ho più nessuna Scusa Stupida Neanche il traffico Che c'è Dimmi dove E quando Ma da stasera Non arrivo In ritardo Senza tante parole Mandami la tua posizione Oh Dimmi dove E quando L'ultima parte Diciamolo Cantata Non Come si dice L'ho pallata Non cantata Adesso vi faccio una cosa Vedere una cosa Che mi da Un fastidio Vedere Allora Intanto ho letto Tutti i messaggi Questa perfetta La cosa peggiore Di Windows 10 E' questa scritta qua Passa Impostazione Per attivare Windows Attiva Windows Una delle stupidaggini Diciamo così Che odio Invece Su Android Come se su Android Adesso Apro la Aspettate Come se su questo Android Mi venisse fuori Attiva Attiva Android Fare una delle cose Più strane Del mondo Ma comunque Va bene Lasciamo i telefoni A parte E di Windows E' troppo bello E' troppo bello questo gattino Per quello lo dico E' tipo rosso Miagola sempre Boh ma andiamo avanti Con canzoni O perdiamoci nei gatti O negli animali In generale E adesso Sentirete Quando la tro No Non è una canzone Quando la tro Ma Sentirete Dov'è Nivenbizzam Elan Buon ascolto Come se sembra Mašovio Ja neviem The Bulls Strasi Majarne Som Podcasný Dmush Sì, non ho preso il mio lavoro, non ho scusato, non ho scusato. E ogni giorno il mio telefono traccia, e ho portato un'niposta, non ho portato un'niposta. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Poi ve la lascio ascoltare. Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Grazie a tutti Grazie a tutti La tecnologia dei cerchi è un po' sballata Allora Chiudiamo la intro è un po' tutto Adesso Andiamo a delle cose Ah non vi ho condiviso lo schermo Ecco Allora Io vi faccio vedere la versione 1.1.8 Dell'app di uno scritto su android Allora andiamo qui E' un po' lentino quest'altro telefono Ma comunque vabbè Eccola qua La versione 1.1.8 Adesso passiamo al computer Che è più meglio Se no qua Viene Ah ecco Adesso vi dico da quando non facevo l'admoscritto E la parliamo Andiamo qua Dal 2 settembre 2020 E sono passati Tipo siamo il 4 novembre Settembre Ottobre novembre Diciamo due mesi E due giorni Due mesi e due giorni Perché non mi va Dalla pubblicazione Ai Ah ok Allora Questa versione 1.1.8 Se vi siete persi il video Ve lo lascio in descrizione Questo grande aggiornamento Che è questo qua Faccio condividi Copio il link E ve lo condivido Nella descrizione di questo video Allora Poi vabbè Sono tante belle cose Da che Normal mode Sempre che funzionano Ho visto un errore No ok Poi Ricordo anche di installare Yamaha Però E' rimasto Alla versione 1.0.7 Lo so Che dovrebbe andare Con l'app Di l'admoscritto Alla versione 1.0.8 Però se solo Quella E' da aggiornare E' un aggiornamento Praticamente inutile Come se Windows Pubblicasse un aggiornamento Dov'aggiorna L'app Microsoft Solitaire Collection Che non ha praticamente Senso Ma comunque Vabbè L'ultimo aggiornamento Era il primo ottobre Quindi Magari se riesco A migliorare qualcosa Lo pubblico Anche a versione 1.0.8 Allora Andiamo direttamente Qui Quindi Vi ricordo Di iscrivervi al canale Lasciando un Mi piace A questo Video Tra parentesi Episodio No A questo episodio Tra parentesi Video Quindi 3 2 1 Ciao Ooooooooh L'ololololololom Grazie a tutti